Ringrazio i nostri ospiti per le brillanti relazioni e mentre li ascoltavo pensavo che tra i tanti gap che ha il nostro paese c'è un gap culturale, stratosferico e penso che farebbe bene la CGL nazionale, la sua segreteria confederale, a indire i stati generali della cultura in questo paese e porsi lei al centro di questa rivoluzione nazionale, sia per un problema di sistematizzazione delle idee, sia perché il professore che questa mattina ha iniziato la sua brillantissima relazione diceva che negli anni 70 si concludeva il trentennio d'oro. Sono una persona stagionata, negli anni 70 avevo 11 anni, però vengo da una famiglia che quelle storie le ha vissute e la cosa più bella è stata l'incontro in quegli anni. Una volta avremmo detto delle masse sfruttate degli analfabeti col mondo della cultura, fino ad arrivare al mondo accademico, al mondo della cultura più in senso largo, fino ad arrivare fra le conquiste sociali che il professore citava, anche alle 150 ore, che ha permesso a milioni di operai di affalbertizzarsi e di avere una licenza di scuola media inferiore. mi accompagnai anche uno dei miei genitori a fare questa questione, a prendere il diploma. Ci fu un avanzamento culturale del Paese che ha permesso, quando parliamo di avanzamento culturale, parliamo automaticamente dell'ascensore sociale, che quella classe lavoratrice divenne per lungo tratto, perché si era messo in modo un meccanismo di ascensore sociale e quindi conquistò il potere di governo del Paese. Diciamocela tutta, e lo dico anche in termini autocritici, perché per lunghi anni abbiamo determinato una condizione che era quella della governabilità, del sistema, del sistema, delle competibilità economiche, non rendendoci conto che per questa via subordinavamo la politica alla finanza, non all'economia, alla finanza. E da qui tutta una serie di questioni che hanno determinato, io cito un dato, solo uno, sostanzialmente il nostro Paese è tornato ai livelli di ricchezza ante crisi, non è un dato positivo, perché gli altri Paesi europei hanno fatto 10 punti in più in questi anni, chi 12, chi 15, ma la stessa ricchezza del 2008 non è nelle stesse mani come era nel 2007. Cioè a dire che la crisi è stata un acceleratore di distribuzione, di ricchezza all'incontrario. Questo perché, a mio giudizio, la sinistra, che nasce sì come elemento culturale, alternativo, radicale all'esistente, ma sostanzialmente ha determinato nel nostro Paese, in Europa, una forza di distribuzione della ricchezza attraverso i salari e i servizi. Quando abbiamo preso in mano l'elemento della governabilità abbiamo trascurato e abbiamo reso subalterni l'essenza stessa della sinistra. Allora però io non vorrei confondere il quadro europeo sul piano politico su quello italiano, perché diciamoci la verità. È possibile che il 26 domenica in Italia si allunghi un'ombra pericolosa sul Parlamento della Repubblica, però è anche vero, è anche vero che in Europa i sovranisti non vinceranno e che le due forze storiche, popolari e socialisti, insieme a, diciamo così, alla vena ambientalista, possono agevolmente avere la maggioranza. Qual è il rischio vero che si pone per il nostro Paese? Che è comunque la seconda, terza forza industriale di Europa. Il rischio vero non è tanto gli Orban o la Polonia, è l'isolamento politico-economico del Paese. Perché noi, con tutti i nostri limiti, abbiamo partecipato in questi anni alla costruzione d'Europa nel terzo vagone, Germania, Francia, Italia. E penso che le forze europee, se l'Italia si isola, sostituiranno l'Italia con la Spagna. Ma se si isola l'Italia, il nostro Paese, io quando ho in testa il nostro Paese ho in testa le persone che vivono di lavoro o che lo cercano e che cercano attraverso esso una realizzazione sociale e un'affermazione della propria dignità. Se il nostro bene viene isolato, non solo sul piano politico, ma sul piano economico, quali danni? Si sarebbe detto una volta, la nostra gente subirà. Perché le alleanze politiche determinano anche la divisione, diciamo così, dei fattori produttivi europei e mondiali. Ecco, il rischio vero è un isolamento economico e politico del Paese, con ripercussioni vere sul piano dell'occupazione, dei diritti e della stabilità stessa del Paese. Il 26 siamo chiamati a scegliere su questo crinale. Se poi si vuole affermare una discussione vera sulle questioni di prospettiva, io alcuni dati me ne sono scritti anche perché ci siamo messi in testa di dare un contributo alla nostra gente su questo terreno. Il dato che a me ha impressionato molto è che nel 1960 la popolazione europea rispetto a quella mondiale era del 21% e che nel 2050 la popolazione europea è del 6% rispetto a quella mondiale e quella africana del 21%. È come dire che degli sciocchi vogliono fermare il vento con le mani, anziché costruire, magari se c'è vento, dei mulini, dei ponti e non dei muri. Ecco, se questi sono dati dove questa pressione migratoria pone delle questioni, che senso ha pensare che un uomo buffo come Salvini, che ha la sua pericolosità, possa governare una civiltà come quella italiana e quella europea. Il punto è dove noi abbiamo sbagliato e dove noi ripartiamo per ricostruire un campo ideale, il professore lo chiamava ideologico, io mi accontenterei di un campo ideale che affonde le radici sulla nostra cultura, la rivoluzione francese, su elementi di socialismo e rideterminando in Europa che l'attività privata è subordinata all'interesse collettivo. Sono, come dire, concetti semplici che in questo Paese, nel Trentennio d'Oro, sono stati praticati, coniugando il lavoro con, diciamo così, il mondo accademico, il mondo intellettuale. Qualcuno citava Pasolini. Come facciamo? Questo è il punto. E guardate che la mancanza della sinistra in un sistema democratico pone se stessa un problema della qualità della democrazia. Non ne faccio una questione di partito. Ricostruire un campo progressista in Italia e in Europa è una questione per garantire quei diritti e la qualità della nostra democrazia. Io penso che su tre filoni dovremmo sviluppare, ricostruire il campo. La questione ambientale, la questione dell'innovazione tecnologica e la questione del lavoro e dei diritti. Il professore stamattina parlava della incapacità dei movimenti, anche radicali, di farsi istituzione. Nel mondo, sulla questione ambientale, si sono mosti milioni di ragazzi. Che per loro condizione anagrafica fosse solo questa, è il futuro. Come istituzionizziamo quel movimento? Io penso che ognuno per la propria responsabilità. e il sindacato deve dire basta a subordinare il lavoro, purché ci sia, alle questioni ambientali. Perché per questa via diventiamo credibili. La questione dell'innovazione tecnologica, più volte affermata con vari protocolli, pone due questioni, forti, vere. La prima, quella della tassazione di capitali, che producono ricchezza e scappano. La seconda, al di là dei processi di formazione, dei lavoratori e quant'altro, cose molto importanti. L'altra questione, che pone, è la questione della democrazia. Perché questi grandi operatori digitali, Apple, Alibaba e quant'altro, hanno miliardi di dati. E attraverso questi miliardi di dati, non solo fanno affari, ma orientano i gusti culturali delle società, come dire, intese in senso largo, e condizionano la qualità della nostra democrazia. Perché sfuggono a due problemi dello Stato liberale, non socialista. L'adassazione e la questione democratica. Una volta i Stati erano tutori e proprietari di tutte le informazioni. E come voi sapete che l'informazione, la conoscenza, determina il potere. Queste sono due questioni, a mio giudizio, la questione ambientale, la questione dell'innovazione tecnologica. Non ultima, l'ho scelto per ultima, perché voglio concludere su questo. A me hanno insegnato che una società democratica ha dei corpi intermetri forti. Forti. Anzi, la legislazione di uno Stato democratico sostiene i corpi intermetri. Perché per questa via sostiene la qualità della democrazia. Perché prima le politiche attuali, per la verità, interpretate da diversi cautilli di destra e di sinistra negli ultimi 25 anni in questo Paese, hanno cercato di affermare un luogo comune, che i corpi intermetri erano inutili, anzi una, come dire, una palla al piede allo sviluppo della modernità, per poi colpire i diritti, quando li hanno indeboliti, poi hanno cominciato a colpire i diritti delle persone. E non c'è qualità in una società democratica se i diritti delle persone si fermano davanti a un ufficio di una banca o davanti a un'officina metalmeccanica. perché è una democrazia a metà. Io penso che la sinistra deve affondare, ma non con un'ottica, diciamo così, novecentesca, deve porre una questione, anche alle classi dirigenti, diciamo così, a chi si sente classi dirigenti del nostro Paese e del continente europeo. che ruolo ha in una società moderna, democratica, una persona che semplicemente si alza la mattina e cerca di affermare la sua persona, i suoi bisogni, i suoi interessi attraverso il lavoro. come la legislazione sostiene questo bisogno primario di dignità dell'essere umano e come l'Europa può diventare il faro di civiltà su questo terreno per il resto del globo. Perché per lunghi anni è stato faro di civiltà. Qui sta lo scontro, vero, tra chi pensa di subordinare il mondo del lavoro, addirittura le istituzioni democratiche, i popoli che liberamente votano, alla finanza. E diciamocela tutta, e poi ho concluso. Non è vero che sono stati solo i banchieri privati, quelli cattivi negli ultimi dieci anni. I veri killer della subordinazione della politica alla finanza sono stati i governatori delle banche centrali che hanno liberato il rapporto che c'è fra mezzi amministrati e investimenti. Tutti lo sottacciono. Ma la vera discussione è questa. quando Blair, Clinton e più modestamente D'Alema riunirono in una politica la liberazione e la leva finanziaria che è determinata dai rapporti propri e i mezzi amministrati. Che prima, dopo la crisi del 29, fu determinata a 1 a 10 e negli anni 2000 fu liberata. creando una bolla speculativa determinando per questa via tutti questi elementi. Ultima considerazione che era quella che dicevo prima. In Europa non vinceranno perché grazie a Dio abbiamo, diciamo così, delle opinioni pubbliche in Francia, in Germania, in Spagna, anche in Portogallo un po' più strutturate. Nel nostro Paese corriamo un rischio vero come lo dicevo prima dell'isolamento del nostro Paese quindi il 26 siamo chiamati a questa scelta per fermare il rischio dell'isolamento del Paese. L'isolamento del Paese non è un pranzo di gala determina disoccupazione, spread e determina per le condizioni, le persone che rappresentiamo condizioni di grande difficoltà. Grazie. 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 Grazie.